Grazie a tutti. 7 8 6 5 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 11 120 11 7 11 7 4 4 2 3 3 3 11 11 11 11 11 11 12 3 0 3 12 12 12 12 12 13 13 14 15 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 16 16 16 16 16 17 17 18 19 20 15 17 15 16 15 15 15 15 16 15 15 5 a 2 5 a 2 io gli ho vinto 3 volte ma che stai? ma che stai? 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 6 a 2 6 a 2 6 a 2 7 6 5 2 2 5 4 con 1 5 5 con 1 2 2 8 9 9 8 9 8 a 3 8 9 a 3 9 a 3 4 6 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 Sìììììì!